Buonasera Daniele Prede, un giudizio a questo punto di fine ritiro perché si chiude qui purtroppo con una sconfitta e però con una grande battaglia anche dell'Udinese fino alla fine. Buona reazione, però l'ultima partita del ritiro è sempre un'incognita perché i ragazzi adesso sono quattro settimane piene che lavorano, oggi si è notata la voglia del break, dello stop. Però siamo contenti, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto gruppo, abbiamo trovato un'identità, un allenatore che ha delle idee chiare, una squadra che si è completamente messa a disposizione e questo mi fa piacere. L'uomo copertina è Kevin Lasagna perché è stato anche il bomber quasi tutte le partite, però è un gruppo che ha dimostrato con tutti i suoi singoli tanta dedizione e anche voglia di adattarsi alle scelte di Velasquez anche con qualche cambio ruolo da parte dei singoli. Non è mai facile all'inizio capire una nuova mentalità, capire un nuovo allenatore, da una parte sono contrari ai lunghi ritiri, però questa volta ci serviva fare quattro settimane insieme proprio per ritrovare, per amalgamare, per conoscerci. Abbiamo lavorato in un'ottima struttura, abbiamo lavorato veramente bene, ringraziamo chi ci ha permesso e consentito questo e tutta quanta l'assessore del turismo della Carinzia perché abbiamo lavorato veramente bene. Al termine della partita, nonostante la sconfitta, sono arrivati anche degli applausi dal pubblico che ha gradito la reazione, 10.070 tessere in campagna abbonamenti, questi sono segnali importanti. Questa è una cosa che mi fa enormemente piacere, cercheremo quello che ho detto all'inizio, quello che abbiamo detto, quello che mi ha chiesto la famiglia Pozzo che è una cosa importante, mi ha chiesto soprattutto di riportare entusiasmo, di riportare un'identità. L'identità, l'entusiasmo lo trovi giocando bene ma lo trovi soprattutto nei confronti della gente facendo di vedere che c'è serietà nel lavoro, che c'è sacrificio e che c'è voglia di metterci tutto. Poi il calcio, lo sport è una cosa, si vince, si perde, c'è l'avversario, ma l'importante è metterci tutto quello che uno ha. Adesso due settimane per completare la rosa. Adesso due settimane per vedere quello che manca, per cercare di fare le uscite dei nostri esuberi, lavorare un po' con serenità, abbiamo già domenica la Coppa Italia. Sono contento che ci sono questi due giorni di break, due giorni e mezzo perché consente a loro di scaricare la testa.